Ci sono molte cose, più bene, che vengono a cercare, che vengono a cercare. Noi, siamo, no! Vi portano i romanzali, Pire! Numero 19, Secchi! Numero 5, Temana! Numero 23, Leccia Luna! Amici! Numero 3, Concello e Spolizze! Amici! Numero 4, Pire! Pire! Numero 16, Leandro! Amici! Numero 4, numero 18, Matias! Sopre! Amici! Numero... Numero 12, Matias! Comunire! Benvenuti, numero 23, Pire! Grazie!